Ciao Madonna Oddio Raga c'è quello con la Oh no 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 Lei è Betty E oggi non ci farà avere paura vero? Salve a tutti ragazzi Benvenuti in questo nuovo video Sono Dinamo e oggi ritorniamo qui su Amnesia Di Darkly Shands Eravamo arrivati da Krippa ragazzi Che dobbiamo aiutarlo E ci ha detto molte informazioni importanti Per trovare le nostre Fatidiche reliquie e le spere Ricordiamoci che lui cerca Un foglio con una scritta con il nome John Weyer Un dottore che può aiutarlo Qui possiamo aprire Resbiterio Dopo ci andiamo Non promette bene però Lei è Betty E oggi non ci farà avere paura vero? Qui non c'è molto da fare Andiamo sopra Raccolta carne Oddio Creepy Oddio Aiuto Andiamo al presbiterio Andiamo al presbiterio Raga Ciao Daniel stiamo imparando a fare esperimenti Attraverso macchine di tortura Stecchio di catrame Mezza aperta Oddio Oddio E' un portale Del nether E' una volta per fare Perché non mettiamo la catrame qua dentro? Ah infatti Ok ci facciamo male se andiamo là Qualcuno ha fatto un rituale finale Senza prudenza E la sfera si è rotta infatti In sei parti Infatti ci ha detto che erano sei parti A grippa Quindi diciamo che Dobbiamo trovare queste sei parti ancora Qui sembra quasi che dobbiamo Ci manca qualche pezzo Quindi direi di tornare indietro Per sicurezza Possiamo dare un po' di carne a lui? Ah non ne ha bisogno Ok direi di Cercare di aprire queste porte C'è qualcosa che non va nel macchinario Ok Andiamo se è così riusciamo a salire Ok L'abbiamo giustato raga Perfetto Sì Ok ora va Perfetto Sono aperti entrambi Perfetto Forse devo mettere qualcosa vicino Tipo una carne? Eh infatti Avevo immaginato questa cosa Questa sta tirando la corda O no? Raga? 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 Resti raccolti L'osso è ricoperto di muco Oddio Raccolto pezzo di una sfera raga Per il primo pezzo Piano Oddio Betti aiuto Betti Oddio Mamma mia è tutto rotto Incredibile Un altro pezzo di sfera Che era E Beh raga Qua il barone Il barone infoteva terrore Fino di torturarle Quindi era molto cattivo Beh Ho trovato Una corda Verso il coro Vai verso il coro e Trovane altri Ok quindi di qua Di regola Ne troviamo altri Eh ok Si trovano nel coro Ah ecco qua Abbiamo trovato la lettera che voleva Agrippa Ancora sul mio liberare Agrippa Ah Warrior voleva liberare Agrippa Ok quindi abbiamo Tre ingredienti per salvare Agrippa Ok perfetto 11 agosto 1839 Alexandre è stato un cortello Vuole che tagli Io la O no Coro Sola principale Finalmente Oddio Raga C'è qualcuno Dio 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 Eh Perfetto Non correre Come non correre Ciao Madonna Anc***o Un pezzo di sfera Ottimo Aprirlo e romperlo Ok Veleno o gli andola Raccolto veleno o gli andola Ottimo Questo serve per la grippa, raga, per salvarlo Mu, mu, mu Uh, pezzo della sfera A quanto pare anche la ruota Viene usata come strumento di tortura Uh, c'è un altro pezzo qui Uno, due, tre Quattro, cinque, sei Abbiamo tutti i pezzi della sfera, raga Cerchiamo di tornare vivi Ci siamo, eh Oh, ringresso veloce Adesso mi deve stare a prestare il cancello Prego, trovo gli ingredienti e preparo il tonico che descrive Praticamente mi dice Prima di metter insieme i pezzi della sfera devo sapare lui Ok, raga, sto tornando un attimo Al transetto Perché Dobbiamo Prendere un attimo una cosa Che ci ha detto negli ingredienti Quelli sui dottor Weyer Esattamente qui Se mettiamo questo con la corda che ho messo Ok Possiamo prendere il sangue Come ci aveva detto Ok, perfetto Adesso abbiamo tutti gli ingredienti Praticamente per Poter salvare il dottore Eh, il dottore Agrippa Direi di lasciarci qui Da Dinomond È tutto Ciao 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 Ciao